In tutta la gravante contestata, unificati di reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'Ergastolo con l'isolamento di urno per la durata di anni 1. Cosa significa? Giustizia fatta. Pena massima per Javad di Sciam, la Corte di Assise di Arezzo ha condannato all'Ergastolo il 38enne che lo scorso aprile è uccisa all'interno di un appartamento di via Benedetto Varchi, la compagna e la suocera. Oggi è una bella giornata. Il PM Marco Dioni aveva chiesto l'Ergastolo con l'aggravante del vincolo parentale, stessa richiesta delle parti civili. Noi siamo usciti da questa aula soddisfatti perché comunque in questo caso la giustizia corrisponde alla legge. La difesa del 38enne invece aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante, la concessione delle attenuanti generiche e lo sconto di un terzo della pena. Credo che fosse una sentenza ampiamente annunciata di cui non c'era veramente da sorprenderci, però diciamo le argomentazioni giuridiche in punto di sussistenza dell'aggravante sono quelle che sono la questione di rimente di questo processo e che verranno coltivate fino in Cassazione. La Corte d'Assise aveva già rigettato la richiesta della difesa di sottoporre l'uomo ad una perizia psichiatrica alla quale si erano poste anche pubblica accuse e parte civile. Il duplice femminicidio si consumò nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023. L'uomo non accettava la fine della relazione con la donna. Dopo un ultimo scambio di messaggi col cellulare tra i due in un crescendo di accuse ed offese, Javad prese l'arma e affondò 23 coltellate sul corpo della compagna Sara Ruschi, due delle quali fatali, mentre tre furono inferte alla suocera Brunetta Ridolfi, tutto sotto gli occhi dei figli della coppia di 17 e due anni. Quindi per me è finalmente un grande sollievo, per me, mia sorella e per tutta la mia famiglia. Riconosciuta adesso dalla sentenza una provvisionale di 200.000 euro e 250.000 euro rispettivamente per il ragazzo e per la bambina.